Il Rimini torna all'Orogella Stadium e Dino Manuzzi di Cesena per affrontare il Romagna Centro, con pagine di Martorano, allenata alla passata stagione da Simone Muccioli. E quindi una partita speciale per il condottiero dei Biancorossi. E gara d'ex anche per gli under Pasquini e Mazzavillani, mentre nella fila Biancazzurra militare ex Rimini Cecconi. In casa Biancorossa Sente Ambrosini torna invece dal primo minuto Buonaventura, così come Simoncelli, con la parte dalla panchina. Per il Romagna Centro è la giornata Biancazzurra, oltre 500 tifosi Biancorossi al seguito. La partita, il primo tentativo è di Simoncelli, la sua conclusione dal limite dell'area dopo un minuto, è al lato dei pali della porta difesa da Sarini. La replica di padroni di casa non si fa tendere, un minuto dopo cross di Lorusso, Brighi anticipa Cecconi, Tola rimette in mezzo e Cecconi in due passi alza la mira, ma la palla è riuscita prima del traversone perché si riparte con un corner. All'ottavo minuto Petti intercette in maniera un po' goffe il cross di Lorusso, favorendo comunque il recupero di Scotti. Al quattordicesimo Arlotti cerca lo scatto, contratto da Zamagni, poi Pasquini recupera il pallone, ancora Arlotti che finisce nella morsa di Zamagni e Rossi. L'attaccante Biancorosso reclama il rigore, il signore Belfiore non è dello stesso avviso. Un minuto dopo il tiro da fuori aria di Guiebre, dopo una respinta corta della retroguardia Biancazzurra e alto. Al diciassettesimo a caso inissima per i Rimini, cross di Simoncelli con il contagiri per Buonaventura, che colpisce di testa in tuffo, sfera di poco alato per la disperazione del bomber Biancorosso che applaude comunque il compagno. Al minuto ventiquattro vantaggio per il Romagna centro, Cortesi si coordina di prima su una sventagliata dalla trequarti difensiva, il suo diagonale colpisce il palo e finisce in fondo al sacco, 1-0. Al ventottesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Righini, Pasquini tenta la conclusione, pallone lontano dal bersaglio. Stessa sorte dall'altra parte del campo per la battuta di Anchisi su imbeccata di Cortesi alla mezz'ora. Al trentatresimo l'inzuccata di Cecconi sugli sviluppi di un calcio piazzato manda la sfera oltre la traversa. Al trentacinquesimo Arlotti viene spostato da Zamagni sulla verticalizzazione di Brighi per l'arbitro e simulazione, giallo per il talento Biancorosso. Al quarantaduesimo Arlotti per Buonaventura che farà la terra dopo il contatto in corsa con Rossi. Al quarantatresimo alla punizione precisa battuta da Righini viene alzata oltre la traversa da Sarini. Al quarantacinquesimo Buonaventura gancenare un pallone calciato lungo dalla metà campo, Sarini prende giocatore e pallone, il numero 9 Biancorosso protesta e l'arbitro lo ammonisce. Dopo un minuto di recupero si va all'intervallo sul punteggio di 1-0 per i Cesenati, qualche momento di tensione prima del rientro negli spogliatoi. Al settimo dalle riprese il tiro di Variola subentrato nell'intervallo è fuori. Al dodicesimo è la sinistro di Guiebre bloccato senza patemi da Sarini. Al ventiduesimo Scotti è costretto a smanacciare in corner il cross insidioso di Cortesi. Al venticinquesimo il tiro di Montanari sorvola la traversa. Un minuto dopo Cicare vicino avanti per Buonaventura che si gira l'altezza del dischetto. Il suo tiro a giro è alto di un soffio. Al trentaquattresimo il Rimini trova la rete del pareggio. Scambio tra Arlotti e Cicarevic. Il numero 10 Biancorosso entra in area e infila il portiere Biancoazzurro con un tocco da biliardo. 1-1 ed esultanza la Bonucci per l'ex Cesena. Al trentaseiesimo brivido per i Biancorossi. Cross di Tole incornata da due passi di Cortesi. Pallone a fondo campo. Dopo un minuto dopo un'uscita di Serini Cicarevic tenta il lob ma l'estremo di casa fa in tempo a tornare tra i pali. Al quarantatresimo il Rimini resta in dieci. Arlotti guadagna il secondo giallo per gioco falloso e abbandona il campo. Al quarantacinquesimo sponda di Prati per Tola che da posizione defilata impegna Scotti. Al quarantaseiesimo l'intervento acrobatico di Brunetti viene respinto in prossimità della linea da viti. L'ultimo brivido è per la porta del Romagna Centro. Combinazione Montanari, Cicarevic, Buonaventura. Il tiro del numero 9 deviato da Zamagni chiama gli straordinari Sarini che al cinquantesimo preserva il risultato di parità con il quale si conclude l'incontro. Finisce 1-1. Il Rimini raggiunge momentaneamente la Fiorenzola in vetta quota 34. Il Romagna Centro sala quota 23.